buonasera sono Urbano della Sanemoreno Volkswagen Audi di Fuscecchi oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture aziendali allora si tratta di questa bella Audi A3 Sportback 1.6 turbodiesel 116 cavalli dell'anno settembre 2017 allora poi le spiegazioni più precise che troverete sull'inserzione però intanto vi facciamo vedere lo stato d'uso della carrozzeria che è veramente bella di questo bel nero brillante cerchi in lega da 17 pollici sensori di parcheggio posteriore all'interno troviamo la sua tappezzeria originale in tessuto nero anche questa molto bella naturalmente come il nostro solito le tappezzerie vengono lavate igienizzate a vapore e in più prodotto igienizzante quindi molto molto belle profumate e belle da vedere display a scomparsa climatizzatore automatico cambio automatico quindi proprio veramente un valore aggiunto volante multifunzione più scontro solamente 23 mila 400 chilometri navigatore allora questa vettura ma scusate mi sono dimenticato specchietti esterni ritiegabili elettricamente allora questa vettura è già disponibile presso il nostro punto vendita quindi la potete già venire a vedere eventualmente a provare e naturalmente a chiedere informazioni per quanto riguarda l'acquisto garanzia pagamenti rateali quindi ci possiamo fare questi pagamenti rateali a tassi agevolati quindi se ne avete bisogno chiedete possiamo ritirare il vostro usato cosa dire di più venite a vederla perché è veramente bella potete andare a visitare anche il nostro sito diretto autosani.it quindi troverete spiegazioni più precise su questa vettura e su tutte le nostre altre proposte quindi andate a visitarlo a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e come dico sempre alla prossima vettura